Una promessa è una promessa, recitava un vecchio film del 1996 e la Nocerina ha tutta l'intenzione di mantenere le promesse fatte in questi giorni infuocati di calciomercato. Stamattina, di fatti, primo allenamento per l'ex difensore di Foggia, Potenza e Melfi, Luigi Cuomo, che, ottenuto il permesso del Foggia di allenarsi con la Nocerina prima della riportura delle liste prevista per il 7 gennaio, attende solo di ratificare l'accordo per il momento sancito con una stretta di mano, prima di considerarsi molosso a tutti gli effetti. Quindi, questione di dettagli, insomma, gli stessi che hanno impedito a Camorani e Giuliano di essere questa mattina al San Francesco. Entrambe hanno da risolvere alcune pendenze economiche con le rispettive società di appartenenza, che gioco a forza faranno slittare il loro arrivo a Nocera ancora di qualche giorno. Anche in questo caso, comunque, manca davvero solo la firma. Intanto, in mattinata sono attese novità delle trattative per Franciel ed Eliak Vu. La Nocerina è uscita allo scoperto, fornendo validi argomentazioni a favore della sua tesi, che, tradotta in moneta corrente, fanno un bel po' di migliaia di euro per entrambe. Ora, la palla passa ai due calciatori, che devono decidere se sposare la causa rossonera, rinunciando il primo al triennale in essere con il Pescina e il secondo a fare il doppio salto di categoria all'indietro. Tutto fermo, invece, sul fronte Ceccarelli, Indiveri, Margherita. Il tempo comunque depone a favore della Nocerina e non solo da escludere eventuali cambi di rotta. In attesa dei rinforzi, anche questa mattina, Padalino ha fatto svolgere ai suoi un'intensa seduta tecnico-tattica, alla quale hanno preso parte tutti gli effettivi a disposizione, fatte eccezioni per gli infortunati Serrapica, San Nibale, Babatunde e Borrelli. C'è attesa, intanto in città, per il Memorial Ciccio Pecoraro, che questo pomeriggio al San Francesco, a partire dalle ore 18, vedrà impegnati in un triangolare per ricordare l'ex calciatore Molosso, l'attuale Nocerina, la Nocerina Vecchie Glorie e l'Atletico Irno, ultima squadra allenata da Pecoraro. Tra le Vecchie Glorie è prevista la presenza, tra gli altri, di gente del calibro di Battaglia, Bozzi, Bruno, Caruso, Cornaro, De Falco, De Ruggero, Iezo, Siviglia, Chiancone, Di Giaimo e Tortola. Un motivo in più, insomma, per essere presenti questo pomeriggio allo stadio, tornando alla stretta attualità e rimanendo in tema di glorie, c'è chi tra le fila dell'attuale Nocerina chiude un anno comunque in positivo, che l'ha visto protagonista con la maglia rossonera. Stiamo parlando del capitano Giovanni Cavallaro, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai nostri microfoni. Giovanni Cavallaro, si chiude per te un 2009 comunque ricco di soddisfazioni. La promozione in C2, l'esordio in C2 quest'anno, il capo cannoniere attuale di questa Nocerina. Tralasciando un attimo i problemi di classifica e quelli degli ultimi mesi, insomma, è un anno che comunque è da ricordare. Sì, un anno bello, un anno bello perché siamo ritornati nei professionisti e tutti quanti, un anno bello perché comunque come primo anno ha fatto sette golle. Magari poteva diventare un po' più bello se la classifica era un po' migliore di come è adesso, però penso che la società sta lavorando per rimetterci all'impiedi, stanno arrivando dei giocatori importanti e noi siamo qua a disposizione di quelli che arriveranno, mettendoli nel miglior modo possibile, farli sentire a casa sua, lavorare tutti assieme e uscircene da questa situazione. Ecco, all'orizzonte è un tour de force niente male. Tre partite nel corso dei prossimi dieci giorni che potrebbero essere anche fondamentali ai fini della classifica. Ma per me sono due, perché la prima e il dieci sono squalificato, anche se li vorrei fare tutte e tre. È un momento dove, ti ripeto, arriveranno dei giocatori, degli infortunati che rientrano, dipende da noi, dipende da noi mettercela tutta, metterci il cuore e cercare di fare i più punti possibili. Intanto si è cominciato con un bel richiamo di preparazione, vi ho visto abbastanza stanchi tutti quanti, no? Eh sì, due prof diciamo che un pochettino hanno esagerato, però ci fa bene. Alla lunga ce lo ritorneremo, è un buon lavoro, stiamo mettendo un po' di benzina sulle gambe per finire la sua campionata alla grande. Che cosa si aspetta Giovanni Cavallaro dell'anno nuovo? Ma io mi aspetto una lucerina che quantomeno faccia il doppio di quello che ha fatto quest'anno. E se riusciamo a fare questo arriveremo a salvarci tranquillamente e a sperare in qualcosa in più. Grazie.